Allora la Fantasia credo che sia fondamentale per poter spaziare e creare qualcosa di sempre di diverso di innovativo che possa sorprendere i nostri clienti. Il consiglio che do è di seguire i propri sogni, le proprie passioni, coltivarli e farli crescere sempre più. Vi consiglio vivamente di partecipare se non l'avete ancora fatto perché è un evento meraviglioso, organizzato nel migliore dei modi e poi c'è uno staff fantastico.